Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova videosintesi di scienze. Prima di vederla ricordo a tutti di iscrivervi al canale La Scienza in un click e di attivare la campanella delle notifiche. L'atmosfera, pressione venti e meteorologia. L'aria atmosferica, anche se ci sembra leggerissima, ha in realtà una massa e la quantità totale di aria nella nostra atmosfera è enorme. Nei gas, più che parlare di peso, si ragiona introducendo una nuova grandezza, la pressione, con la quale si intende il peso della massa di gas divisa per la superficie su cui è distribuita, nel nostro caso quella dell'intero pianeta Terra. L'unità di misura della pressione è il Pascal, simbolo PA, che corrisponde al peso di una massa di 100 grammi distribuita su una superficie di un metro quadrato. La pressione atmosferica media della Terra a livello del mare è pari a circa 101.300 Pascal. Di solito si esprime in etto Pascal, uno dei quali è pari a 100 PA, simbolo HPA, e si esprime il suo valore medio come 1013 etto Pascal. La prima misura sperimentale della pressione atmosferica media fu realizzata nel Seicento da Evangelista Torricelli, allievo di Galileo Galilei, immerse un tubo di un centimetro quadrato di sezione contenente mercurio in una bacinella, contenente anch'essa del mercurio. Vide che la pressione dell'aria sul mercurio nella bacinella esercitava una spinta che faceva risalire il metallo liquido nel tubo. La salita del mercurio si arrestava quando il mercurio nel tubo raggiungeva un'altezza di 76 centimetri, o meglio, 760 millimetri. Concluse che la pressione atmosferica media è pari a quella esercitata da una colonna di mercurio alta 760 millimetri su una superficie di un centimetro quadrato. In suo onore, la pressione atmosferica media ancora oggi si esprime o come 1.013 etto Pascal o 760 millimetri di mercurio o 760 torr. Quello fin qui determinato è il valore medio della pressione atmosferica. Questo valore può però variare localmente a seconda della geografia del luogo, dell'umidità e della temperatura dell'atmosfera. È da queste piccole differenze locali di pressione che dipendono gli spostamenti delle masse d'aria, ovvero il vento, e l'origine dei fenomeni atmosferici, il bel tempo e il cattivo tempo. Innanzitutto la quota rispetto al livello del mare influenza la pressione. Più saliamo e più corta e meno pesante sarà la colonna d'aria sopra la nostra testa. Quindi la pressione atmosferica diminuisce con l'altitudine rispetto al livello del mare. Sarà quindi più bassa in montagna. Inoltre l'aria più calda è più leggera di quella più fresca, a causa della sua minor densità. Vediamo sulla destra che l'aria più umida, ovvero che contiene più vapore acqueo, è più leggera di quella più secca, perché il vapore acqueo è più leggero degli altri gas atmosferici. Di conseguenza si ha alta pressione quando l'aria è fresca e secca, si ha invece bassa pressione quando l'aria è calda e umida. Il barometro è lo strumento che misura la pressione atmosferica. Presenta due scale di lettura, con entrambe le unità di misura, in etto pascal e millimetri di mercurio o tor. Al di sopra del valore medio, di 1.13 etto pascal o 760 tor, avremo alta pressione. Al di sotto avremo bassa pressione. Nei quadranti più piccoli in basso si possono leggere i valori di temperatura e umidità relativa. Quando si crea una differenza di pressione atmosferica tra due zone confinanti, le masse d'aria si muovono per ristabilire l'equilibrio e si genera il vento, tanto più intenso quanto maggiore la differenza di pressione. Le masse d'aria si muovono sempre in un verso, dalla zona di alta pressione verso quella di bassa pressione. A seguito della rotazione terrestre, le zone di alta e bassa pressione tendono ad assumere una forma circolare o comunque chiusa. Le aree circolari di bassa pressione sono i cicloni, quelle di alta pressione gli anticicloni. Oltre a formarsi localmente, esistono sulla Terra zone di alta o bassa pressione permanenti che si spostano stagionalmente. La velocità e quindi la violenza del vento si misurano tramite la scala Bofor, che riporta per ciascuno dei 12 gradi il valore della velocità del vento, il nome e gli effetti. Il vento sarà tanto più intenso, quanto maggiore sarà la differenza di pressione tra l'area anticiclonica da cui parte e quella ciclonica verso cui si muove. Ma perché l'alta pressione è associata a bel tempo, mentre quando arriva la bassa pressione dobbiamo aspettarci cieli coperti e piogge? Quando l'aria fresca proveniente dalla zona di alta pressione, a sinistra, incontra quella più calda della zona di bassa pressione, la spinge verso l'alto a partire dalla zona di contatto, che in questo caso è un fronte freddo. Salendo verso l'alto, l'aria inizialmente più calda si raffredda, raggiunge in quota il valore di saturazione del vapore che condensa, dando luogo a nuvole, piogge, temporali anche violenti, nella zona del fronte. Una volta ristabilito l'equilibrio di pressione, i fenomeni hanno fine. Quando invece l'aria calda muoversi scivolando sopra quella più fresca che resta in basso, abbiamo un fronte caldo, che è più esteso e presenta fenomeni meno violenti ma più duraturi. Nubi a strato. In ogni caso, quando si scontrano due masse d'aria a temperatura diversa e si forma un fronte, abbiamo sempre dei fenomeni. Le carte meteorologiche riportano delle linee chiuse, qui in bianco, che si chiamano isobare e uniscono i punti che hanno in quel momento la stessa pressione atmosferica. Ogni isobara presenta anche il valore di pressione corrispondente in etto pascal. Alcune formazioni di alta pressione sono permanenti come l'anticiclone delle Azzorre, che un tempo, all'arrivo dell'estate, si posizionava sul Mediterraneo, regalandoci le tipiche estati non troppo a fose. Negli ultimi anni è purtroppo sostituito dall'anticiclone africano, troppo a sud per essere visibile in questa carta. Esistono anche formazioni cicloniche, ovvero di bassa pressione permanenti come il ciclone di Islanda, da cui hanno origine tutte le fasi di maltempo delle perturbazioni atlantiche che attraversano l'oceano arrivando fino a noi. Non c'è niente di più variabile della direzione della velocità del vento. La rosa dei venti a sinistra è un grafico che ci mostra i venti che soffiano dalle quattro direzioni principali e dalle quattro intermedie. A destra dall'alto l'anemometro che misura la velocità del vento è una banderuola che ruota a seconda della direzione da cui proviene il vento. Eppure in alcune zone del mondo esistono addirittura venti costanti come gli alisei, le frecce in rosso che soffiano dai due tropici verso l'equatore. Sui tropici c'è un'alta pressione permanente infatti sui continenti a quel livello abbiamo dei deserti mentre invece all'equatore c'è una bassa pressione permanente dove troviamo le foreste pluviali e piovosità elevata. Il loro percorso non va dritto per dritto da nord a sud o da sud a nord nell'altro emisfero ma è deviato verso ovest verso sinistra dalla rotazione della terra. I venti alisei chiamati anche i trade winds venti commerciali erano venti molto sfruttati ai tempi della navigazione a vela. Altri fenomeni periodici sono i violentissimi monsoni che investono in periodi fissi dell'anno l'India e il sud-est asiatico sono dovuti alla presenza di due aree di alta e bassa pressione con forte differenza di pressione una posizionata sulla terraferma e l'altra nell'oceano indiano che a intervalli regolari in periodi che sono sempre quelli si scambiano di posizione. Questo fenomeno da noi possiamo vederlo su scala ridotta nei posti di mare durante il giorno l'aria a contatto con la terra si riscalda di più di quella a contatto col mare a causa dell'elevata capacità termica dell'acqua si crea una debolissima differenza di pressione leggermente più alta nell'aria sopra la superficie marina e una leggera e piacevole brezza di mare soffia dal mare verso la terraferma di notte assistiamo al fenomeno opposto l'aria al di sopra della superficie marina sarà più calda e leggera e soffierà una brezza di terra dalla terraferma verso il mare per vedere la video lezione completa con video animazioni e contenuti aggiuntivi il link è in descrizione oppure qui sulla schermata finale ciao a tutti e alla prossima video lezione ciao a tutti